Visit Molise, il portale di destinazione turistica della regione, è uno strumento indispensabile per promuovere la conoscenza dei territori e coinvolgere gli operatori e tutte quelle imprese che diventano funzionali a costruire percorsi nuovi e concreti di attrazione. Questa mattina è stato presentato ufficialmente dall'assessore regionale Vincenzo Cotugno. È una rivoluzione da un punto di vista digitale, una piattaforma interattiva che dialoga con l'intera regione, non solo sul comparto turistico, ma su tutta quella che è l'offerta regionale, ma dialoga con il mondo. La regione, l'assessorato ha il dovere di programmare, di disegnare una vision e di promuovere la regione. Lo stiamo facendo sui canali nazionali, regionali, sui social, a tutti i livelli. Il territorio oggi deve rispondere con i contenuti. Apriremo uno sportello presso l'assessorato per assistere le amministrazioni locali, gli stack order, le associazioni, le prologo, tutti quelli che vogliono partecipare. Perché è una vera e propria rivoluzione che noi siamo convinti che porterà all'attenzione del mondo una regione straordinariamente bella. Basta con il Molise che non esiste, oggi non ha più senso questa frase, ci siamo, abbiamo da vendere un prodotto e una qualità straordinariamente bella, lo vogliamo fare, lo dobbiamo fare in modo convinto tutti. All'evento anche il presidente Donato Toma, che ha richiamato gli assenti al piano strategico per lo sviluppo del Molise. Molti amministratori dei 136 comuni molisani e tanti di coloro che dovrebbero essere interessati perché titolari di imprese oppure operatori economici al maggior flusso di presenze nel Molise. Noi pensiamo che una goccia possa addirittura scavare la roccia e noi come una goccia continueremo a fare i webinar, a invitare i sindaci, a invitare le prologo e in approvazione in consiglio una nuova legge sulle prologo che stimoli queste associazioni ad operare meglio. Noi abbiamo la necessità di coinvolgere non solo i comuni ma anche le imprese, le imprese rispondono bene, le dico perché, perché in realtà la regione Molise non fa impresa nel turismo, fa sostegno. La regione Molise accompagna, crea una infrastruttura immateriale che è la rete di informazioni, questo dobbiamo fare noi, non demorderemo.